Musica Carissimi amici di Radio Ascoltatori, un caro saluto a tutti voi da Denise Arcieri. Lo scorso 19 novembre è tornato alla casa del padre Don Romolo Taddei. Nelle ultime settimane della sua vita aveva lottato contro il Covid-19. Don Romolo Taddei era nato nel 1941, è stato ordinato presbitero il 15 agosto del 1966 e ha conseguito la licenza in scienze dell'educazione con indirizzo psicologico presso la Pontificia Università Salesiana e quella in teologia pastorale presso l'Università Lateranense a Roma. È stato parroco della parrocchia San Giovanni Maria Vienney e per molti anni direttore dell'ufficio di pastorale familiare, membro del consiglio presbiterale della Commissione per gli ordini e ministeri. Nel 1978 ha fondato il consultorio di ispirazione cristiana familiare a Ragusa. Oggi parleremo di Don Romolo Taddei insieme alla professoressa Agata Pisana, presidente del consultorio familiare di Ragusa, che abbiamo il piacere di avere in linea. Ciao Agata, grazie per aver accettato il nostro invito. Salve, saluto tutti e ringrazio io voi. Grazie. Mi piacerebbe appunto iniziare il racconto della sua amicizia e collaborazione con Don Romolo Taddei, partendo proprio dal momento in cui vi siete conosciuti. Allora, se vogliamo parlare di quando ci siamo conosciuti, andiamo molto indietro nel tempo a quando io ero al liceo. Lui all'epoca, essendo laureato esercitando la professione dello psicoterapeuta, era anche amico di mio padre e quindi a volte veniva a casa, si confrontavano, perché appunto erano gli anni in cui stavano fondando il consultorio insieme a padre Giovanni Saloni, a mio padre stesso che aveva fatto parte dello staff di servizio e c'erano tante altre persone che veramente si spendevano in quel periodo, tanto tanto era l'epoca in cui poi c'erano state la legge per il divorzio, l'aborto, quindi proprio c'era uno schieramento di forze democratiche cristiane, nel senso più puro del termine, che cercavano di mantenere fede ai principi e ai valori della famiglia e di diffonderli con questo taglio professionale. Poi l'ho continuata a incontrare quando ho frequentato da allieva i quattro anni del corso di specializzazione e psicoterapia della Gestalt, nel lontano 2000, vent'anni fa, e da allora, lui allora era uno dei didatti, perché era stato anche fondatore di questo istituto, e da allora insomma abbiamo continuato a vederci, poi mi trovavo in seminario dove stavo frequentando i cinque anni di scienze religiose, e lui parcheggiava là, sempre l'auto nel cortile, andava in biblioteca, aveva sempre qualcosa da fare, era sempre super affaccendato, e mi ricordo una sera mi ha fermata, mi ha detto non è giusto che tu non vieni in consultorio e non fai volontariato. Mi ha colpito molto questo fatto proprio di dire, cioè non bisogna sprecare i talenti, se tu hai una preparazione devi farlo, e non me lo sono fatto dire due volte, e poi da allora è iniziata proprio una vicinanza, io direi familiare. E infatti, se arriviamo a questo momento appunto come hai accennato tu, appunto nel 1978 nacque appunto il consultorio di ispirazione cristiana, fondato da Don Romolo, insieme a padre Giovanni Salonia e il professor Gaetano Lomonaco. Don Romolo ha dedicato la sua vita, la sua missione sacerdotale al consultorio, ha donato la sua professionalità, la sua umanità, il suo amore incondizionato al consultorio. Recentemente avete anche deciso appunto di intitolare proprio il consultorio a Don Romolo. Vorrei chiederle, lei ha collaborato per tanti anni con padre Romolo appunto all'interno del consultorio, avete condiviso molti traguardi e tappe importanti, mi piacerebbe che lei raccontasse appunto l'appassionante missione di Don Romolo all'interno del consultorio. Sì, non si può non sorridere pensando a quanta passione veramente, ha detto la parola giusta, c'era in Romolo a proposito proprio della possibilità di dare aiuto alle famiglie. Lui tutti i pomeriggi era in consultorio fino a sera tardi, non accettava mai che qualcuno che avesse bussato alla porta, avesse chiesto aiuto, non venisse tempestivamente nell'arco di pochi giorni affidato a qualche operatore e se non c'era nessuno disponibile, lui era sempre pronto a prendere tutti i casi del mondo. A volte la sera si stropicciava gli occhi, era stanco, una volta mi disse ho la pressione alta, ma ho ancora un altro impegno, qualcuno ha bisogno e quindi io devo stare qui. Non solo al servizio proprio di questi incontri individuali, ma anche di incontri di coppia, che ho avuto l'onore di fare con lui per 15 anni, che mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato tantissimo, cioè lavorare gomito a gomito con lui è stata una scuola di formazione impareggiabile, eccellente e di una ricchezza di cui gli sarò sempre grata. Ma poi mi ha coinvolta e cercava di coinvolgere tutti in tante altre iniziative, per esempio su richiesta all'ora dei presbiteri di Comiso, abbiamo avviato anche un corso di formazione per consulenti familiari a Comiso, dove per un certo periodo poi è sorta una sorta di consultorio, ecco, di sede staccata di quello di Ragusa. Poi andavamo in giro invitati a Sassari, a Roma, a Catania, a Cireale, a Palermo, per tenere corsi per le famiglie, per le giovani coppie. Lui era particolarmente appassionato per i fidanzati, insieme ad altri operatori del consultorio, per esempio andava ogni anno invitato regolarmente da vent'anni a Viserba, vicino Bologna, dove aveva realizzato un'altra, diciamo, rete di sostegno alle famiglie. aveva anche messo su tanti corsi che erano poi un distillato pratico, una sorta di laboratorio effettivo di quello che lui aveva condiviso nei libri, nei tanti libri che ha scritto, e che poi esportava ovunque, perché lo chiamavano tante volte. lui era spesso in viaggio. In tutta Italia hanno avuto l'occasione di studiare, di lavorare, di fare servizio sui suoi libri. Anche in quasi tutte le parrocchie d'Italia sono utilizzati regolarmente i suoi testi per l'organizzazione, la gestione dei corsi prematrimoniali. Mi sono arrivate in questi giorni e-mail, telefonate da Palermo, da Milano, da tantissimo anche dalla zona della Campania, da Ischia, dal vescovo di Monsignor Lambiasi, da Emilia Romagna, dal vescovo di Ischia, cioè veramente tante persone che in questo momento non solo stanno esprimendo l'affetto, ma la gratitudine per quello che ha fatto. E come consultorio si può dire che tutti i consultori della Sicilia sono un po' una filiazione di quelli suoi, di questo di Ravusa, cioè di quelli che lui proponeva come progetti di realizzazione. L'idea era sempre quella, una presenza sul territorio dove chiunque avesse problemi relazionali, di comunicazione, avesse bisogno di aiuto per un discernimento, ovunque chiunque potesse far ricorso per non essere solo, per non sentirsi solo e per avere una voce cristiana che è un qualificato professionale che lo ascoltava e che lo consigliava. Un po' era questa la sua grande avventura nel mondo delle famiglie, proprio un'avventura vera e propria. Quello che ha fatto in questi anni è incredibile. Infatti come hai sottolineato tu appunto ha formato generazioni e generazioni di volontari, operatori, operatrici e soprattutto ha aiutato e sostenuto molte famiglie e giovani coppie. Diciamo la sua prerogativa principale era quella di formare con ogni persona che incontrava nel suo cammino una relazione, intraprendere una relazione autentica. Vorrei appunto concentrarmi su questa cosa. cosa animava le relazioni per padre Romolo? Faceva una grande distinzione, come giusto che sia, tra le relazioni fra colleghi, le relazioni con gli allievi e le relazioni con i pazienti. Poi in più c'erano le relazioni con gli amici, quattro categorie, giusto per dire i vari tipi di relazione che giravano attorno al consultorio. Diciamo che fra colleghi, perché anche se lui era il papà del consultorio, però ci considerava colleghi, la prima cosa che saltava gli occhi era la fiducia. Riusciva a smuovere le acque, a invitare tutti a fare qualcosa, ci credeva, voleva sapere che proposte avevano e appena c'era un barlume proprio di progetto, subito lui si metteva sotto per realizzarlo, lo affidava, affidava proprio questo progetto, il caso, quello che fosse all'operatore e da lì poi lo seguiva in supervisione. Per cui praticamente la sensazione era per ognuno, io ho qualcosa di prezioso da dare, io posso darlo, questo è il luogo dove poterlo fare. a partire dal fatto che chiunque diventava volontario aveva le chiavi del consultorio, proprio perché questa era una casa, una seconda casa, una seconda famiglia. Quindi non solo la fiducia, ma poi quella supervisione che faceva sì che lì massimo, tutti i nostri interventi professionali in modo da maturare, da dialettizzare e da offrire sempre il meglio. Il tipo di relazione con gli allievi era molto didattica, molto generosa, era molto affettuoso lui. Quindi non lasciava mai nessuno indietro, ma non era nemmeno, diciamo, una persona che poi diventava buonista, perché a livello didattico se io dico che va sempre bene non faccio crescere l'altro. Quindi era anche molto rigoroso nel fare le proprie analisi, le proprie valutazioni, nel consigliare e si preparava tanto per le lezioni. Anche se erano cose dette, ridette, ripetute su cui lui aveva scritto, veniva sempre con una traccia pronta, scritta sul momento, scritta apposta, cioè sul momento, diciamo per l'occasione, proprio perché era scrupolosissimo nella serietà del prepararsi e nella serietà di quello che andava a insegnare a fare. La relazione con i pazienti, con gli utenti, era ecco molto generosa, però riusciva ad essere anche molto professionale della serie. io sono qui, ti ascolto, ti aiuto, però devi darti da fare per guarire, diciamo, per migliorare. Mi tornavano sempre alla mente quando eravamo insieme quelle parole del Vangelo, quando Gesù chiede ma tu vuoi guarire? quante volte alla moglie gocciuta che continuava a recriminare contro il marito, diceva, ma tu vuoi andare d'accordo con tuo marito o no? Punto. Cioè, siamo concreti, siamo seri. E così come ci teneva sempre a puntualizzare che ogni risposta fosse sempre, sempre, sempre precisa, chiara. Quando un proposito era, per esempio, va bene, da domani coccolerò di più mia moglie. No, un attimo, che vuol dire coccolare? Le porti la rosa, le dai un bacio in più, le ascolti, cioè dobbiamo essere dettagliati e precisi. Era quasi proprio esigente con i pazienti e questo li faceva crescere tanto, proprio tanto. Era un punto di riferimento anche autorevole, non solo autorevole, ma proprio di una serietà incarnata. E poi c'era il rapporto con gli amici, ma questo, ecco, lui con tante famiglie passava il Natale insieme, la Pasqua, le Domeniche, si divertiva poi in modo quasi goliardico a fare i famosi scherzi da prete che lui diceva, il tipo di, le scampagnate, ma questo, diciamo, va fuori dall'ambiente professionale. Appunto, un punto di riferimento lo è stato anche per lei. Sì. Vorrei chiederle, c'è un momento, un ricordo in particolare che vorrebbe condividere con noi, con i nostri radioascoltatori, legato proprio al vostro rapporto personale? Mi viene in mente un momento, ce l'ho adesso davanti agli occhi, un momento in cui lui, cioè, in quel momento, diciamo, gli stavo raccontando una cosa triste della mia vita e siccome lui sapeva fare sempre le domande giuste, non è mai stato il mio terapeuta, però ci siamo, diciamo, raccontati tanto l'uno all'altro e in quel momento gli stavo consegnando una mia sofferenza e lui ha visto che io mi sono messa a piangere e allora si è girato per cercare dei fazzolettini da darmi. Io non ne avevo in borsa, non ce n'erano sul tavolino e si è alzato di corsa per andarli a prendere là dentro e ha sbattuto la testa contro la porta, tanto era la foga, ha fatto proprio così e poi ha avuto un attimo di sbandamento ma non si è fermato, ha continuato, è andato a prendere i fazzolettini e me li ha riportati. Proprio mi è sembrato un momento in cui lui stava esprimendo tutta la sua generosità, tutta la sua voglia di aiutare a qualsiasi costo, di mettere l'altro al primo posto, poteva farsi male anche fisicamente, non aveva importanza, proprio c'ero davanti agli occhi che correva verso la porta solo per darmi quei fazzolettini nel più breve tempo possibile, proprio perché con la sua sensibilità, con la sua generosità, ogni momento, ogni occasione di fare bene era da non perdere. grazie per aver condiviso con noi questo bellissimo ricordo. Don Romolo appunto è stato anche autore di molte pubblicazioni relative alla pastorale familiare. Anche negli ultimi tempi, negli ultimi momenti prima della sua morte, stava appunto realizzando una nuova pubblicazione, il suo tredicesimo libro, che verrà pubblicato postumo. Continueremo a navigare insieme, se è il titolo. Parliamo appunto del, anche questo libro parla dell'amore di coppia e di famiglia. Rappresenta un po' la sua eredità. Parliamo del suo testamento spirituale, parliamo di quest'ultima pubblicazione. Sì, il titolo preciso è Continueremo a navigare insieme la vita, se è proprio questo navigare la vita, questo affrontare anche le onde tempestose dell'oceano, però se siamo insieme possiamo farcela. È un libro enorme. Io ho avuto il file perché ho avuto l'onore, mi ha chiesto di preparare la presentazione di questo libro, cosa che ho fatto, che ho avuto tempo di mandargli, cioè ho fatto in tempo a mandargli perché è stato quest'estate, gli è piaciuta molto, si è commosso. E quindi mi hanno mandato il file in anteprima. Ed è un libro che direi è un opus magnum, un'opera magnum, perché raccoglie tanta, tanta esperienza, ma anche tanto sapere, tanta cultura. ci sono tantissimi riferimenti al Magistero della Chiesa, tanto ai documenti pontifici, ma anche alle encicliche. Una delle più citate è sicuramente la Moris Letizia. C'è anche tanto riferimento al mondo della Gestalt, che era il mondo suo di formazione, di ermeneutica professionale, ma poi ci sono citazioni dai cantanti, poeti, scrittori, proprio perché lui era un eclettico, lui leggeva tanto, si formava tanto. Io penso veramente che la cosa che mi colpisce di più, che ho scritto anche nella presentazione di questo libro, è il suo realismo. Romolo sembrava una persona così quasi fuori dal mondo, un sognatore, una persona che a vederlo sembrava sempre per i fatti suoi, con la testa quasi fra le nuvole, con un suo mondo, una sua poca quasi aderenza agli impegni, la puntualità, era tutto così leggero per lui. e poi invece nel lavoro proprio aveva una concretezza che a volte era quasi rude. Lui in questo libro dice senza mezzi termini andare d'accordo è difficile, è un impegno, ci vuole volontà, ci vuole competenza, ci vuole esercizio, non pensate di avere la vita facile. C'era un trinomio, una parola trisillaba che aveva inventato lui che era tutto subito è bene, cioè non pensate che potete avere tutto subito è bene perché siete destinati alla sofferenza. E' chiarissimo, è drastico su questo e tutto il libro senza mezzi termini dice è terreno che scotta la vita relazionale, io vi sto aiutando però dovete mettercela tutta. E' un libro che veramente ora sto riprendendo personalmente in mano, sto facendo l'editing a tutto il libro e devo dire anche con la collaborazione di tanti operatori noi come consultorio abbiamo messo su una commissione per Don Romolo a cui stanno aderendo ovviamente non solo i membri del consiglio direttivo ma anche tanti altri volontari per valorizzare riprendere e diffondere tutto quello che lui ha fatto e fra questo anche per portare a termine il libro ha anche un capitolo realizzato da due diciamo professionisti di Palermo sui metodi per la fertilità ha anche tante schede illustrative fatte da Viviana Zanazzi di Sassari anche un quaderno di esercitazione proprio completo e ricco molto molto importante questo libro siamo certi che appunto continuerete a coltivare tutto quello che Don Romolo ha seminato e continuerete l'opera da lui intrapresa Don Romolo era sempre pronto come ha sottolineato lei ad iniziare un nuovo progetto a spalancare la porta a tutte rispondere in modo concreto ai bisogni che intercettava tra la gente che incontrava cosa possiamo imparare ognuno di noi da questa grande figura da Don Romolo l'audacia a non tirarci indietro a mettercela tutta a sognare però restando con i piedi per terra a fare tutto il possibile a sentirci responsabili del bene comune di tutto quello che possiamo fare sì l'audacia l'invito proprio a fare ad andare avanti con l'aiuto anche della preghiera perché non dimentichiamo che in questo libro come in tutti gli altri che lui ha scritto l'ultima parola di ogni capitolo è una preghiera e la prima di ogni capitolo è una preghiera non ce lo scordiamo sì questo Don Romolo continuerà a vivere attraverso i vostri ricordi ma anche attraverso il vostro lavoro quotidiano e ecco che continuerete ogni giorno a donare l'amore che anche Don Romolo vi ha insegnato a donare e soprattutto continuerà a guidarvi dal cielo recentemente appunto avete deciso di intitolare il consultorio familiare a Don Romolo sì contiamo di fare un grande convegno in occasione dell'anniversario della sua morte o se Dio non voglia avremo ancora problemi di covid saremo pronti a farlo anche quest'estate nell'estate 2021 con una raccolta anche diciamo una mostra fotografica di tutto il lavoro che lui ha fatto dappertutto con la pubblicazione di un libro che raccoglie tutte le sue preghiere avrà come titolo preghiere per la famiglia che sono sparse attualmente nei suoi libri che stiamo raccogliendo con la ripresentazione dei suoi libri e con anche delle riflessioni ovviamente fatte con lexio magistralis da persone a lui care ma anche significative nel mondo del sostegno alle famiglie della pastorale familiare della gestalt proprio per approfondire ulteriormente i suoi libri insomma il suo operato e in quell'occasione sicuramente vogliamo anche presentare continueremo a navigare insieme la vita a sé già adesso abbiamo proprio ieri ho incominciato a pubblicizzare su Facebook sui social abbiamo messo a punto il programma dei corsi del 2021 che è un insegnamento che ci ha lasciato lui sempre quello di attivare corsi gratuiti per tutti su diverse tematiche e ci tengo a sottolinearne uno che terranno i coniugi Pitino che Giovanni e Dina Pitino che hanno con lui lavorato per più di vent'anni e che si intitola Mistero Pasquale Mistero Nuziale che è veramente uno dei capolavori del vivere infatti sarà tenuto in periodo pasquale del vivere la comunione coniugale sotto forma proprio alla luce della Pasqua e in più ecco adesso stiamo anche raccogliendo tutta una serie di testimonianze di scritti che ci sono arrivate di memoria di diciamo quasi lettere aperte a Romolo e ne stiamo realizzando un libretto che distribuiremo gratuitamente a tutti quelli che gli sono stati vicini abbiamo avuto veramente centinaia 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 di testimonianze di persone noi invece professoressa Agata la ringraziamo per averci donato oggi la sua testimonianza su Don Romolo grazie veramente di cuore è un piacere parlare di lui è un piacere parlare con voi e soprattutto con tutti coloro che ascolteranno veramente vi ringrazio perché per me è il gusto del parlare di una persona carissima ed è sempre bello farlo sì grazie salutiamo tutti i radioscoltatori per averci seguito un caro saluto un abbraccio e a presto da Denise Arceri grazie a tutti